C'è anche la scuola media di Toritto San Giovanni Bosco tra gli istituti coinvolti nel progetto sulla legalità promosso dal Ministero in collaborazione con il Comando Generale della Guardia di Finanza. In occasione della visita del gruppo cinofilo della Guardia di Finanza gli studenti si sono mostrati molto interessati a capire il ruolo dei cani, spesso decisivi durante le perquisizioni per l'individuazione di droga e bagagli sospetti. A tenere la lezione con gli studenti il luogotenente Biagio Novielli e il maresciallo aiutante Antonio Russo della tenenza della Guardia di Finanza di Altamura, coadiuvati dal tenente Gianluca Procaccini, soddisfatto dell'iniziativa il dirigente scolastico della scuola media di Toritto Vincenzo Servedio. Una presenza che noi abbiamo ritenuto utilissima sia sul piano della didattica sia sul piano della prevenzione ma soprattutto nel costruire una cultura che sia una cultura della prevenzione una cultura della legalità, una cultura del vivere civile.